Eccoci nell'area press, vedete? L'area riservata a noi della sala stampa. Stiamo arrivando dai nostri, vediamo PG, Guru, poi ci spostiamo a Donald da quest'altra parte. Siamo qui per farvi seguire, come vedete manca poco alla fine di questo settimo livello per metà dei giocatori. Sì, continuiamo in sala stampa, guardateci, tutti pronti, di tutte le lingue, molti italiani, molti stranieri, sala stampa, live!